Allora, eccoci qui e benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di solubilità e prodotto di solubilità. Allora, l'esercizio che svolgeremo oggi è quello che vedete scritto nella seguente traccia, per cui un litro di soluzione satura di carbonato d'argento a G2CO3 contiene 2,56 per 10 alla meno 4 moli di ioni di argento. Allora, calcolare il nuovo valore di solubilità se a questa soluzione vengono aggiunte una mole di nitrato d'argento, assumendo che il volume della soluzione rimanga invariato. Allora, quello che conviene fare all'inizio di questo esercizio è quello di scriverci in che modo si dissocia il carbonato d'argento, per cui Ag2CO3 si dissocierà in due volte ioni di argento Ag+, e CO3 più una CO3- l'altro ione che è CO3-. A questo punto, conoscendo che in un litro di soluzione di satura, vuol dire che è ricca, piena di Ag2CO3, che contiene 2,56 per 10 alla meno 4 moli di ioni di argento, quindi sappiamo il numero di moli di ioni di argento Ag+, quindi possiamo dire che il numero di moli di ioni argento Ag+, è uguale a 2,56 per 10 alla meno 4 moli. A questo punto, guardando la stequiometria, possiamo andare a calcolare il numero di moli di ioni CO3- dicendo che il numero di moli di ioni Ag+, sta a 2, come il numero di moli di ioni CO3- sta ad 1. Implica che il numero di moli di CO3- è uguale, giusto, alla metà del numero di moli di ioni argento. Quindi se facciamo un momento i calcoli, ritroveremo che il numero di moli di CO3- sono 1,28 per 10 alla meno 4 moli. A questo punto, una volta ricavato le moli di CO3- di Ag+, possiamo calcolare la costante prodotto di solubilità, ovvero il KPS. E come la calcoliamo dunque questa costante? Se chiamiamo, quindi ci mettiamo un momento qui, se chiamiamo con S la solubilità degli ioni CO3-, quindi anche come scritto sotto forma di concentrazione, perché la solubilità possiamo esprimerla anche come moli in un litro di soluzione. Il numero di moli che ovviamente si trova in un litro di soluzione e quindi coincide proprio con la concentrazione. Quindi se chiamiamo S la solubilità di CO3-, in genere andiamo a scegliere sempre quello ione che ha una mole per quanto riguarda il rapporto stecchiometrico. Infatti CO3- ha sottinteso 1 qui davanti, quindi abbiamo stecchiometricamente ballando una sola mole di CO3-. Quindi scegliamo CO3- come S, allora visto che le moli nella stecchiometria, il rapporto stecchiometrico CO3-, una mole di CO3- sta a 2 di Ag+, allora diremo che 2 volte S saranno invece la solubilità dell'ione argento Ag+. Quindi ripetendo, se S è CO3-, essendo l'argento in rapporto con CO3-, 2 a 1, allora 2 volte S, cioè 2 volte la solubilità di CO3-, sarà la solubilità dell'ione argento. Quindi Kps possiamo scriverlo come solubilità di CO3- e quindi S per la solubilità dell'ione argento elevato al numero stecchiometrico, quindi al coefficiente stecchiometrico, quindi sarà 2S elevato alla seconda. Tutto questo calcolo verrà 4S al cubo, ma a questo punto possiamo scrivere 4 per, quindi, la solubilità S, abbiamo detto che è la solubilità dell'ione CO3-, che sarà quindi la concentrazione degli ioni CO3-. Quindi siamo nel litro di soluzione, quanto sarà la concentrazione di CO3-? Sarà praticamente 1,28 per 10 alla meno 4 moli diviso ovviamente un litro, quindi praticamente 1,28 per 10 alla meno 4 moli litro. E quindi 1,28 per 10 alla meno 4 moli litro elevato al cubo otteniamo un Kps che è pari a 8,39 per 10 alla meno 12 ed è quindi questo il nostro prodotto di solubilità. A questo punto possiamo ricavare la solubilità dell'intera, diciamo, soluzione di carbonato d'argento, ovviamente facendo la radice cubica, quindi sarebbe 4S al cubo uguale a Kps, quindi S sarà la radice cubica di Kps appena trovato diviso 4, e ritroviamo una solubilità della soluzione appunto di 1,28 per 10 alla meno 4 moli su litro. Ma adesso l'esercizio ci chiedeva come variava quindi la solubilità della soluzione che è 1,28 per 10 alla meno 4 moli litro, se aggiungevamo nitrato d'argento. A questo punto scriviamoci anche qual è la formula di dissociazione dell'intrato d'argento, quindi sarà AgNO3 che ci darà uno ione Ag+, più NO3-. Da notare ovviamente che le cariche sono bilanciate più e più, intendo più 1, qui intendo meno 1, quindi 0 cariche a destra, quindi nei prodotti, e 0 cariche a sinistra. Quindi a questo punto notiamo che dalla stechiometria, facciamo un ragionamento stechiometrico, abbiamo una mole di AgNO3, una mole di Ag e una mole di NO3-. Quindi vuol dire che il numero di moli di Ag+, sarà uguale al numero di moli di AgNO3 che sarà uguale a sua volta al numero di moli NO3-. Ma a questo punto questo implica dire anche che la concentrazione di Ag+, sarà uguale alla concentrazione di AgNO3 che è uguale ancora alla concentrazione di NO3-. perché siamo sempre in un litro di soluzione, ma poi dal rapporto stechiometrico vediamo che tutti gli elementi di tutte le specie sono in un rapporto 1 a 1. Quindi se la concentrazione di Ag+, è uguale a GNO3-, e prima abbiamo visto che il KPS praticamente si calcolava come concentrazione di CO3- per la concentrazione di Ag+, a questo punto sostituisco in questa formula concentrazione di CO3- per la concentrazione di AgNO3. Ok? Ricordando dunque che nella formula di dissociazione del carbonato d'argento, l'ione argento era presente stechiometricamente parlando con due moli, al quadrato, e quindi qui eleveremo anche GNO3 al quadrato. Ma conosciamo la concentrazione di nitrato d'argento? Non la conosciamo, ma la possiamo ricavare perché abbiamo che in un litro di soluzione vengono aggiunte una mole di AgNO3. Quindi se viene aggiunta una mole di AgNO3, sarà una mole su un litro, abbiamo una mole litro. Quindi il KPS lo conosciamo e quindi sarà 8,39 per 10 alla meno 12. Se chiamiamo con S l'assolubilità di CO3-, otteniamo S. Per la concentrazione di AgNO3, che abbiamo capito essere una mole su un litro, quindi abbiamo un molare al quadrato, possiamo dunque dire che la nuova assolubilità è pari proprio a 8,39 per 10 alla meno 2 moli su un litro. Quindi ricaviamo che la nuova assolubilità è uguale al prodotto di assolubilità della prima soluzione quando avevamo solo il carbonato d'argento. Quindi questo esercizio si conclude qui. Andiamo a vedere quest'altro esercizio. Dobbiamo calcolare il volume che occorre per diluire 100 ml di una soluzione NaOH che presenta un pH pari a 13,50 per ottenere una soluzione a pH pari a 12. Quindi vogliamo calcolare il volume minimo che bisogna diluire in 100 ml di una soluzione NaOH, a pH 13,50, per ottenere poi una soluzione a pH 12. A questo punto, anche qui, scriviamoci la formula di dissociazione della base forte NaOH. Quindi NaOH si dissocia come Na+, più OH-. A questo punto, anche qui, come vedete, nei rapporti seguimentri, ci siamo tutto in uno a uno. Calcoliamo dunque il pH partendo dalla relazione per cui pH è uguale a 14 meno il pH della soluzione. Il pH della soluzione originale è 13,50 quindi se da 14 meno 13,50 avremo un pH pari a 0,50. Possiamo dunque anche calcolare la concentrazione degli onio H- ricordando che il pH si calcola anche come meno il logaritmo in base a 10 della concentrazione degli onio H-. A questo punto, il pH, lo sappiamo, è pari a 0,50. Se voglio la concentrazione di OH- dovrò applicare la funzione inversa del logaritmo che è praticamente l'esponenziale, quindi scrivermi 10 elevato alla meno 0,50. e otterrò una concentrazione che è di 0,31622 molarità. A questo punto, conosciuta la concentrazione di ioni OH- in 100 ml di soluzioni anio H- pH 13,50, mi vado a calcolare anche le moli di NaOH. Come le calcolo le moli se conosco la molarità e il volume, semplicemente facendo molarità per volume. Ovviamente il volume di 100 ml lo passerò a litri, che è praticamente 0,100 litri. A questo punto, facendo 0,100 per 0,31,622 molarità, otteniamo il 13,16 per 10 alla meno 2 moli di NaOH. A questo punto, dunque, sia quando la soluzione ha pH 13,50 che quando la soluzione avrà pH uguale a 12, otterremo che NaOH, essendo una base forte, si dissocia del tutto e si dissocia secondo questa reazione chimica. Quindi potremmo dire che il volume necessario per portare questa soluzione a pH 12, dobbiamo fare semplicemente questo ragionamento. Se ovviamente il numero, dunque, di moli di NaOH sarà il numero di moli sia di Na più che OH meno per i rapporti stegiometrici, in quanto, vedete, è tutto 1 a 1. Quindi vuol dire che le concentrazioni di OH meno sarà uguale, ovviamente, alla concentrazione di NaOH. Ma, a questo punto, quanto sarà uguale alla concentrazione di OH meno quando il pH sarà uguale a 12? Semplicemente andiamo a ricavare il più H di nuovo, facendo sempre pH meno pH più 14, o 14 meno pH, per ottenere, dunque, un pH pari a 2. E quindi ricavo contestualmente, come fatto prima, le concentrazioni di OH meno che sono pari praticamente a 10 alla meno 2 molarità. Quindi, nella nuova soluzione avremo bisogno di 10 alla meno 2 molarità che deve essere uguale alla concentrazione di NaOH meno. Ma la concentrazione di NaOH meno sarà uguale al numero di moli di NaOH su il volume che sto cercando. Dunque, il numero di moli di NaOH, nel passare da un pH 13,50 a pH 12, non variano. Quindi sarà ancora uguale a 3,16 per 10 alla meno 2 moli, che abbiamo ricavato prima, diviso il volume incognito che vogliamo trovare. Facendo dei semplici calcoli, otteniamo che il volume sarà uguale a 3,16 litri. E dunque questo è il risultato di questo esercizio molto semplice. Quindi, fatti questi due esercizi relativi anche alla dissociazione di alcuni, di una base forte, di un sale, quell'esercizio anche questo finisce qui. Noi ci vediamo per un prossimo video sempre relativo alla chimica. Vi ricordo sempre di dare un'occhiata all'info box di questo video per andare a seguirci sulla pagina Instagram Ripetizioni Universitari, dove potete interagire con noi e magari suggerirci degli esercizi da portare sul canale, o anche semplicemente per seguire la nostra galleria fotografica che si sta arricchendo sempre di più anche con esperimenti di cui stiamo portando anche le spiegazioni sulla nostra pagina Instagram. Detto questo, ci vediamo noi per un prossimo video.